Uno zaino green di alta qualità realizzato in Italia con materiali riciclati, un'edizione limitata di Capitan Findus prodotta in collaborazione con Arishock Bags per la nuova consumer promo insieme per il futuro degli oceani. Un'iniziativa che nasce sulla scia del percorso di sostenibilità avviato dall'azienda a partire dalla salvaguardia dei mari e degli oceani. L'attenzione alla sostenibilità è da sempre parte integrante del DNA aziendale di Findus, per questo ogni giorno ci impegniamo in progetti concreti per proteggere e preservare l'ambiente marino. In linea con il nostro percorso di sostenibilità, ad esempio da anni portiamo avanti in collaborazione con COP un progetto di adozione di Sibin lungo le coste italiane, dei cestini maggiori fiuti che contribuiscono a recuperare migliaia di kg di plastiche e microplastiche ogni anno. Ma il nostro impegno concreto è anche testimoniato dal modo di lavorare in maniera sostenibile sui nostri prodotti per quanto riguarda l'approvvigionamento del packaging. Ad oggi infatti la quasi totalità delle materie prime ittiche che utilizziamo sono certificate MSC o ASC, così come la quasi totalità degli imballaggi sono completamente riciclabili. La scelta quindi di collaborare con Artichoke Bag per realizzare uno zaino con 100% tessuti riciclati come premio per la nostra attività promozionale insieme per il futuro degli oceani nasce proprio dalla volontà di continuare il percorso di sostenibilità e di sensibilizzare anche i consumatori su questo tema. I zaini in palio con la consumer promo Findus vengono prodotti nel nostro stabilimento con vele riciclate recuperate realizzate con materiali plastici come Kevlar ed Akron molto difficili da smaltire in quanto non riciclabili come la comune plastica. Ci siamo anche preoccupati di far produrre la fodera e il nastro da filamenti ricavati da plastiche 100% riciclate. Il nostro team è composto da creativi e artigiani che utilizzano la loro maestria per garantire la massima qualità estetica e resistenza.